Regà, siamo tornati con i video su Cell con un registratore a schermo del 2021 trovato, si chiama ADV Recording, registratore in italiano, ADV, ADV, registratore ragazzi, quindi l'intro lo facciamo così tanto per far felici. E benvenuti ragazzi, io sono Cd7 e oggi vi do il benissimo episodio di Fortnite, riassunto, perché riassunto, perché qua voi vedete le news, cioè scusa, da qua in fungo, vedete tutte le news che vi ho letto, magari non vedete, comunque le ricominciate sul meccanico YouTube. E tutte queste tre news, dirai, ti prego, leggile, anche così vi ho letto, un po' le scritte tutte, ok? Vi prego, leggile, io ve le voglio leggere, regà, però, regà, pensavo che non di più, non è un rassunto, regà, è forzamente reale, ve l'ho fatto, dai, ve l'ho fatto, ve l'ho fatto, ve l'ho fatto. Quindi vi faccio il video, vi faccio il video, regà, quindi, John Cena sale sul ring di Fortnite. E' quasi giunto il momento, John Cena sale sul ring di Fortnite, 26-7-2-2. Da il team di Fortnite, nell'ambito dell'Epic Summer Slam, i 16 volte campione John Cena dà una lezione all'versario di Fortnite, a colpi di Attitudine Adjustment. Il costume di John Cena sarà disponibile sul negozio oggetti a partire dal 29 luglio alle 2 italiana, con gli stili look d'ingresso e look sul ring. Deremo un'occhiata al costume qui sotto. Ah, comunque, ragazzi, il tablet funziona, ma, visto che ho preso a fare video sul cellulare, il tablet non serve più. Comunque, ce l'ho io, tanto, per fare delle cose. Deremo un'occhiata al migliore. Contrariamente a quel che si dice, puoi vedere questo costume e anche degli accessori abbinati. I suoi negozio oggetti stanno per provare, cioè, stanno per provare anche gli altri oggetti del set John Cena, Nello circolativo WWE, c'è l'empio chip, inclusione nel costume, piccone, manno gigante e remote. You can't take me. Mostrata più sopra, se riesce a vederla. Dimostra che Big Match John non ha rivale su Fortnite, se mostra più sopra. Eh. Cosa è qua, è la moto, non è il baglio. Comunque, regà, eh. Rai, no, ti prego. Sì, regà, ho finito il video di oggi. Comunque, regà, faccio anche questo poco, eh. Quindi, ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, perché sono tornato con i video, anche con ADV, un gestitore che funziona. Quindi, mi piace, ragazzi, di supportarmi, per far sì che funzioni più avanti, per sempre. E, quindi, ragazzi, mi raccomando, qui su Instagram, che ho la cd di Sia Terrabasso, e Pesino Terrabasso, official, ragazzi. Un bacione, è il vostro cd. Sia, è tutto per ragazzoli. Ciao! Ciao!